bentornati e ritrovati su ernest channel web tv in una nuova puntata di sai che il sai che di oggi è tra arte e storia in particolare vi proponiamo la prima parte di una grotta la storia di questa grotta che si trova nell'oasi del sacro cuore in santa maria dell'isola a conversano che si trova in provincia di bari in puglia italia per gli amici che si trovano in russia intanto ringraziamo il direttore della santa maria dell'isola don leonardo mastronardi per l'opportunità che ci ha dato di raccontare questa storia come nasce la chiesa di santa maria dell'isola anche perché noi abbiamo questa opportunità siamo i primi per come ci ha detto lo storico mario ad essere entrati con le telecamere all'interno di questa grotta quindi vi aspetta un bel hunter prima la storia di questo gioiello artistico religioso che inizia da infatti ce lo racconta dal principio il professore mario giannuzzi di conversano e prima di vederci il video naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale youtube ermes channel web tv e come c'è la scritta iscriviti voi iscrivetevi e se volete vedere quando mettiamo questi video il campanellino infatti vi avvisa dell'arrivo dei nuovi video quindi è il momento di vederci e soprattutto gustarci la storia di questa bellissima grotta vediamoci il video addio ottimo massimo giulio antonio acquaviva duca di atri e conte di conversano avendo conquistato grandissima gloria tra i soldati con il sudore e con il sangue in seguito comandante di tutto l'esercito del regno di napoli contro i turchi nemici del nome cristiano desiderosi di conquistare l'italia presso otranto valorosamente combattendo cadde 8 febbraio 1481 ottenendo la corona celeste invece della corona militare dove si trova questo interessantissimo documento storico ciao a tutti siamo a conversano con professore mario gianuzzi all'oasi del sacro cuore in santa maria dell'isola il 6 che che proponiamo è la scoperta di un gioiello nella campagna di conversano a circa un chilometro dal centro abitato mario guidaci in questo cammino storico artistico e religioso grazie valeria grazie donato eccoci qua un saluto a tutti i telespettatori tanti anni fa circa 600 anni fa la madonna andò in sogno a una fanciulla di conversano e le disse vieni nella contrada dell'isola tra i cespugli nascosta in una grotta troverai la mia immagine i parenti tra cui uno zio macellaio andarono con la fanciulla nella contrada dell'isola a circa un chilometro dal paese e cominciarono a tagliare rovi e cespugli in cerca della grotta ma allo zio macellaio si spezzò il coltello e lui arrabbiato lasciò tutti e se ne tornò in paese giunto a conversano volle mostrare ai curiosi i pezzi del suo coltello ma il coltello era tornato intero miracolo il macellaio tornò all'isola riprese a cercare e con l'aiuto degli altri trovò la grotta sulle pareti della grotta stava dipinta la madonna da ogni parte venne la gente a venerare questa immagine della madre di dio il vescovo di quel tempo monsignor pietro migolla e il conte di quel tempo giulio antonio acquaviva su quella grotta fecero costruire questa bellissima chiesa ma noi ora andiamo alla scoperta della grotta eccoci qua cominciamo adesso l'esplorazione della grotta scoperta circa 600 anni fa e su questa grotta è stata realizzata la chiesa di santa maria dell'isola la grotta con tutto quello che fra poco vedremo è l'unico ambiente di tutto il complesso che non è stato ancora restaurato scopriamola con il fascino e il mistero che viene dal passato so che viene dal passato Scendiamo, vediamo come una spirale è stata realizzata per la scala che ci porta giù. La roccia è stata scavata da mano umana, naturalmente con i picconi, è stato allargato questo ingresso e noi pian piano scendiamo sempre più giù. Stiamo per fermarci in un punto interessantissimo, ecco qua. Dopo la prima rampa di scale siamo giunti su un pianerottolo interessantissimo, dinanzi a noi una piccola galleria di affreschi, non restaurati, che ci portano indietro nel tempo. Per esempio qui davanti a noi vediamo una bellissima Madonna che ha in braccio il suo figliolo, una Madonna con il volto leggermente reclinato. E quanto sono belle queste mani che si uniscono, il bimbo che tocca il pollice della mano della mamma e queste dita così affusolate. Notiamo anche il bellissimo mantello blu che avvolge la Madonna e il bambino. No, è tutto da restaurare. Guardiamo in basso sulla sinistra per noi il committente, certamente qualcuno che ha ricompensato il frescante, cioè il pittore della fresco, che ha realizzato questo magnifico lavoro. Ma non è tutto qui, perché noi se volgiamo lo sguardo verso la nostra sinistra vediamo un bellissimo affresco di una figura femminile che molti hanno pensato come Maria, ma che in verità, ce l'ha rivelato un esperto che è venuto addirittura dalla Bosnia, è Barbara, Santa Barbara è riportato in questo affresco. E se andiamo leggermente più in basso, ecco che vediamo una figura francescana. Sarà San Francesco? Certo è che questo complesso, lo vedremo meglio dopo, è stato affidato ai frati minori osservanti. Ma se lo sguardo lo spostiamo verso destra, ecco vediamo qui una figura episcopale, è un vescovo, lo notiamo dai paramenti. Probabilmente si tratta di San Nicola, il venerato santo che unisce in un'unica devozione cattolici e ortodossi. E' tutto da restaurare questo complesso, certamente, che sa come risplenderà quando i lavori potranno essere svolti. Quindi, continuiamo dunque la nostra discesa nella grotta alla scoperta di altri interessantissimi misteri. Continuiamo la nostra discesa. La grotta, come vi dicevo, è rimasta così come è stata riscoperta circa 60 anni fa. Perché tutto il complesso ha subito l'abbandono dovuto all'incuria degli uomini, alle vicende storiche. E questa grotta ha tante cose ancora da raccontarci. Ecco qua. Noi, davanti a noi, vediamo un altare completamente diroccato. E sull'altare vediamo come una piccola abside e riusciamo anche a distinguere, anche qui, un volto di Madonna e un volto di bambino che si tengono fra di loro. A destra e a sinistra notiamo figure francescane. Se ci spostiamo a destra, forse è l'affresco meglio conservato in questa grotta, noi vediamo San Didacus, in italiano Diego, San Diego, Santo Francescano, a conferma di un fortissimo legame fra il regno di Napoli e il regno di Spagna. Sull'altro lato possiamo certamente notare la figura di San Francesco. E ciò che può rendere interessante scoprire anche la tecnica degli affreschi, che prima quadrettavano l'affresco e sull'intonaco fresco realizzavano poi la figura da dipingere. Mani giunte, barba, naso, occhi, saio, francescano. Possiamo notare facilmente che la grotta quindi era una piccola chiesa, un luogo di culto. Forse i primi a frequentare questo luogo saranno stati monaci basiliani che fuggivano dall'impero romano d'Oriente? Certo in questa grotta saranno entrati, avranno celebrato messa, avranno pregato i francescani che ebbero in consegna tutto il complesso? E' bello pensare che qui è venuto anche il beato Giacomo d'Abitetto, che per un periodo ha abitato in questo complesso conventuale. Ma fra poco parleremo di un altro meraviglioso mistero che la grotta contiene. Quello che vediamo davanti a noi, questo buco, fino a 60 anni fa, era invisibile perché era qui davanti a noi c'era una parete, parete di fango, di malta, di terriccio, una parete però che si rivelò non compatta, sgretolabile, bastava poco perché tutto si frammentasse. Fu circa 50-55 anni fa che un gruppo di giovani, animati dal desiderio di scoprire un leggendario percorso sotterraneo che univa, o meglio, che unisse il castello di Conversano alla chiesa di Santa Maria dell'Isola che cominciarono a scavare, scavare, scavare e la terra veniva su, veniva portata a fatica utilizzando mezzi anche pericolosi. Perché se si scava e si scava e c'è una grotta, allora ci sarà il passaggio, scava, 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 la grotta girava anche verso destra e sulla destra, scava, 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 venne trovato un teschio, solo un teschio. I giovani di allora si spaventarono un po' perché una testa trovata. Di chi è questa testa? Con religiosa cura il teschio fu portato su e si continuò a scavare. Ma, continuando a scavare per altri 70-80 centimetri, fu rinvenuto uno scheletro senza testa, perfettamente adagiato, sepolto secondo le usanze dei francescani. Di chi è questo corpo, queste ossa? Di chi è questa testa? E allora si affacciò un'ipotesi meravigliosa. Qui certamente si tratta del conte Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona, ucciso dai turchi presso Otranto, decapitato. Il cavallo riportò a Conversano soltanto il corpo senza testa. E possiamo dire, quasi certamente, i monaci francescani dell'isola seppellirono il corpo del conte senza testa in fondo alla grotta. In fondo alla grotta sulla parte destra. Probabilmente il capo del conte, dopo un certo tempo, fu anche recuperato. E allora, a un livello superiore allo scheletro senza testa, venne anche posata la testa. Quel teschio, quel corpo, quelle ossa furono recuperate circa 50-55 anni fa e portate religiosamente in sepoltura all'interno della chiesa dove, nel corso dei secoli, altri conti erano stati sepolti. Ma di Giulio Antonio Acquaviva d'Aragona, morto, martire a Otranto contro i turchi, sepolto in questa grotta, poi portato all'interno della chiesa, parleremo fra poco. Ecco, tutto il complesso conventuale è stato recuperato negli ultimi 30 anni, soprattutto ad opera di Don Leonardo Mastronardi, della cui figura parleremo in un'altra puntata. Solo la grotta, con gli affreschi, con l'altare, con quel precipizio che abbiamo visto, è rimasta così com'era 60 anni fa. Noi ci auguriamo che qualche mecenate abbia interesse al recupero di questa magnifica testimonianza religiosa, artistica e storica. Noi ci auguriamo che qualche mecenate abbia interesse al recupero di questo. Ciao! 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 Grazie a tutti.